Buonasera a tutti, sono Pamela, ho 18 anni, vivo in provincia di Bari e faccio parte della Fraternità di Santa Fara. Oggi vorrei propormi di donare i miei vestiti, o meglio, quelli che non uso più, perché sì, noi sin da piccole, sia me che mia sorella, ci siamo passati i vestiti l'una con l'altra e nostra madre ha sempre regalato i nostri vestiti a magari delle cuginette più piccole o a delle amiche più piccole o comunque a cui andassero i nostri vestiti, che però non avevano bisogno perché non se lo potevano permettere. Quindi quello che io vorrei fare è appunto fare un resoconto di quali vestiti indosso e non indosso e siccome appunto io ho la possibilità di comprarmene altri, donarli a chi in realtà la possibilità non ce l'ha. Quindi vorrei impegnarmi, adesso che appunto faremo il cambio di stagione, a capire quali sono stati i vestiti che ho utilizzato e quali no e quelli che non ho utilizzato vorrei appunto accumularli e trovare qualcuno a cui darli, una parrocchia magari a cui affidarli, che magari conosce più di me chi appunto ha bisogno e niente, così avrei anche magari una scusa per passare un po' di tempo con mia madre e mia sorella a fare un po' di shopping e allo stesso tempo avrei aiutato qualcuno che ha bisogno. Grazie.